Io non mi arrendo, non diserto il campo di battaglia, non tradisco la fiducia che in quasi 30 anni mi hanno dato milioni di italiani. Silvio Berlusconi torna a far sentire la sua voce da leader della Rinata Forza Italia ed interviene telefonicamente ad una riunione elettorale di area centrodestra, movimento nato a Catania. E lancia l'allarme se PD e Lini si alleano, per noi è la rovina, dice annunciando che entro il prossimo mese di gennaio sarà a Catania. Faremo una passeggiata a lungomare per caricare tanti giovani, prosegue Berlusconi, e per convincere gli indecisi a ottenere la maggioranza perché senza questa il nostro paese è ingovernabile. Il nostro paese è oggi ingovernabile perché le nostre istituzioni, quelle che ci dà la carta costituzionale, sono fatte non per decidere ma per vietare. E questo è vero dal 1948 ad oggi, aggiunge Berlusconi. Bisogna, dice, cambiare il nostro paese e renderlo moderno, capace di competere con gli altri, di raggiungere una forma vera di democrazia e di libertà, come per esempio negli Stati Uniti dove ci sono soltanto due grandi partiti, i repubblicani e i democratici. Se non riusciremo ad avere la maggioranza ci ritroveremo in una situazione che per dare un governo al paese bisognerà ricorrere alle larghe intese. Berlusconi esclude ogni ipotesi di coalizione con il PD ed agita lo spettro di un'alleanza tra il partito di Renzi e i grillini. Immaginate il PD al nostro fianco dopo quello che è successo, immaginate noi al fianco del PD? Sarebbe una rovina dunque se il PD trovasse un accordo con il Movimento 5 Stelle, dice Berlusconi, sarebbe la nostra rovina e la rovina del paese. Per evitare questa minaccia abbiamo il dovere di impegnarci come non abbiamo mai fatto per convincere tutti gli elettori indecisi e quelli di 5 Stelle.